Ciao a tutti sono DarkNedSoul2 sono tornato yeee non come una certa persona Chi è lei? Chi è lei? Sì di quel proprio... Ah non mi riconosce? Ma chi è lei? Come fai a riconoscermi dopo 5 anni che non carica un video e non mi riconosce? Ma non è colpa mia è colpa di Clash Royale ci sono dei problemi Ah il signorino in colpa pure è un gioco no? Sì Oh come bello? Devi caricare più fitti Lo sape è colpa di Clash Royale Ormai ne lo porta più nel senso E non è vero Ciao Ok a parte questo piccolo inconveniente col signor LegendCraft Vi spiego perché cavolo l'ho caricato un video per ben due mesi O per meglio dire Perché sono morto? Bene Allora iniziamo dal principio In principio la terra No non quel principio In pratica Succede da questo Aprivo Clash Royale Iniziamo a registrare E E che cavolo ma vai a quel paese No vai a quel paese tu Ma Ma che cavolo E in più Solo questo E Nessuno mi ha ucciso E nessuno ha scritto il mio nome sul dax No 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 Diro non farlo No 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 no